I miei nipoti e le mie figlie, che anche se faccio guai di tutti i libri, sono tra le cose del giorno più prezioso della mia vita. A parte loro poi ci siete voi. E sapervi accanto per me è importante. È molto importante. Oggi ho riaperto la pagina, ho visto che siamo pochi. E giustamente, certo, avete detto, ma insomma basta, no? Ti abbiamo scritto, ti abbiamo aspettato, ti abbiamo cercato. E quindi, alla fine, giustamente, avete riuscito l'opportunità di andarvi a un'altra parte. Prima c'erano gli annunci, con tantissimi di voi che partecipavano, ora ho visto sempre di meno. Quindi, poi, le lacrime cadono. Adesso le vostre lacrime più quelle del caldo, del sonore, dell'occhio proprio. Quindi, che dicevo, non lo so, mi sono perso nell'aglimatoio. Aiuto, non vedo più niente. Ragazzi, non vedo più niente. Comunque, la sostanza è questa. Siamo tornati, ci vogliamo stare, ci vogliamo essere, ci dovremmo stare. Se è possibile, come prima, anche più numerosi, perché anche questo è possibile. Non avrete insieme anche questo, no? Non avrete insieme anche nella ricerca di risultare i rapporti con i nostri amici e farne anche di nuovo. Quindi, questa sorta di autodestudismo deve finire. Scusate, questa cosa che non dipende da me. L'ho fatto puramente tecnico qua, meccanico. È peccato perché così non mi farei i vostri messaggi. Quindi, vorremmo forse farne un'altra delle altre. Allora, questa domenica bellissima, vi ripeto, dedicata a tutti voi, ai vostri bambini, ai vostri mogli, ai mariti, insomma, le nostre persone che amate di più. Trascorretela benissimo, anche per quelli che ci stanno curando queste strutture, che però hanno come miglior medicina la vostra amicizia e il vostro sostegno. E, assolutamente, stiamo passando, la passiamo in questo posto in attesa di tempi migliori. Io vi penso, e soprattutto spero che torniate su questa pagina, intanto numerosi, per rivivere insieme le emozioni che sempre abbiamo condiviso, no? Iniziative, cose, incontri, copie film e quant'altro, fanscribe, insomma, e vendono un po' queste file di discorso che ho io, postamente, interrotto e che altrettanto vedendo la tua voce vuole recuperare. Scusate, ma c'ho delle lacrime qui con me. Pazzoletti, li ho determinati.